buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al nostro oracolo di oggi cominciamo subito e come sempre i miei studenti sono invitati a commentare con la loro interpretazione personale ma vediamo le carte abbiamo wow cominciamo benissimo cominciamo con la carta del sole con la carta del nasimiento che mi fa pensare tantissimo vi ricordate il mago com'era che si chiamava mago donna simiento se non sbaglio era brasiliano non so ditemi voi se mi sbaglio e l'ultima carta è la carta della casualità cioè del caso della coincidenza dunque a corona invece abbiamo balance spirituality and practicality beh queste carte ci stanno dicendo che dobbiamo stare attenti a non essere né troppo spostati in questi giorni verso gli aspetti più spirituali e mentali della nostra vita ma nemmeno spostarci troppo verso gli aspetti pratici e materiali dobbiamo in realtà trovare un buon equilibrio fra entrambe le cose se abbiamo intenzione di migliorare la nostra vita di risolvere qualche problema o comunque di andare avanti in modo come dire in modo corretto la cosa migliore che possiamo fare appunto cercare di bilanciare queste due parti di noi molte volte noi siamo troppo spirituali e quindi ci sganciamo completamente dal piano fisico ci dedichiamo alla meditazione ci dedichiamo alla ripetizione di mantra di preghiere oppure stiamo appiccicati davanti un mazzo di carte di tarocchi per vedere che cosa sta succedendo che cosa sta accadendo che cosa devo fare o non fare ecco questo essere troppo sul lato spirituale invece essere troppo sul lato fisico dall'altro canto l'altra faccia della medaglia ci porterebbe magari a perdere di vista le parti più sottili di noi della nostra vita delle esperienze che stiamo vivendo e attraversando essere troppo pratici ci porterebbe a osservare la realtà solo ed esclusivamente da un punto di vista fisico e quindi perdere di vista qual è la lezione che sto imparando quale insegnamento l'universo mi sta mettendo di fronte quale passaggio la mia anima dovrebbe fare per sciogliere il karma ecco sono tutte cose che vanno considerate così come va considerato che stando a casa chiusi a meditare la vita non va avanti bisogna uscire ed essere anche pratici in realtà la nostra il nostro essere pratici sembra ottimale perché sembra che ci stiamo davvero divertendo questo potrebbe essere questa giornata o questi giorni in generale intorno ad oggi potrebbero essere dei giorni particolarmente piacevoli per passarli con gli amici per passarli con la famiglia con le persone che ci vogliono bene con il nostro partner possiamo divertirci facendo anche delle piccole cose delle cose stupide non necessariamente serve chissà cosa anche se devo dire che per qualcuno di noi ci sono dei viaggi in vista quindi preparatevi comunque piccoli o grandi viaggetti ci saranno degli spostamenti presto e quindi ecco che anche in quel caso se si tratta di cose fatte per piacere che ben venga sembra proprio che abbiamo una bella energia sembra proprio che oggi potremo svegliarci stamattina e questo video ricordo che è valido per il momento in cui lo vedete quindi oggi o questi giorni potreste appunto svegliarvi con il buon umore finalmente svegliarvi con l'idea che avete in programma qualcosa di bello da fare qualcosa che vi piace che non vedete l'ora di fare persone da incontrare da vedere con cui condividere dei momenti gioiosi e sembra però che non ci abbiamo un po perso l'abitudine a farlo sembra che non siamo più abituati ad essere felici a divertirci in modo spensierato come se ogni volta che cerchiamo di divertirci o di distrarci c'è una cappa proprio nera negativa che ci circonda comunque ci compenetra sta sempre lì ci fa compagnia ed è ed è sempre più raro riuscire a scrollarsela di dosso e godersi il momento puro per quello che è senza pensieri senza preoccupazioni è per questo motivo che questa cosa che dovrebbe essere il nascimento cioè un po una una nascita questa cosa dovrebbe essere un po una nascita per noi dovrebbe essere un periodo in cui escono fuori cose nuove idee nuove progetti nuovi situazioni e relazioni nuove potrebbe essere proprio il momento in cui iniziamo una nuova fase della nostra vita più bella più spensierata e nonostante possiamo farlo perché le energie ci sono e sono a nostra disposizione per essere più leggeri dobbiamo abituarci piano piano il periodo stressante è durato tanto più dura una cosa più noi ci abituiamo a quella cosa quindi in termini più fisici più noi proviamo un'emozione sempre la stessa tutti i giorni più la nostra biochimica si adatta il che significa che il corpo umano dopo un certo arco di tempo inizia ad abituarsi a quella condizione se noi siamo depressi per se noi siamo tristi vabbè ve la faccio così se noi siamo tristi per 21 giorni di seguito no stop il nostro corpo si abituerà a vivere in quella condizione di tristezza di depressione ed ecco che entriamo in uno stato cronico si rischia appunto di cronicizzare l'emozione e il corpo stesso che nei momenti di depressione tristezza produce quella certa biochimica continuerà anche quando le condizioni esterne che ci portano a stare male scompaiono il nostro corpo continuerà a produrre quella biochimica e noi continueremo a star male essere depressi anche senza motivo apparente quindi bisogna stare attenti in questo caso noi stiamo passando da un periodo pesante a un periodo che finalmente invece comincerà ad essere più leggero molto più leggero e una vera e propria nascita potremmo dire perché insieme a noi insieme al nostro buon umore nasceranno anche appunto nuove situazioni nuove esperienze persone progetti dobbiamo essere pazienti perché potremo sentirci stanchi potremmo non essere al top magari non siamo sicuri appunto di avere l'energia giusta necessaria per portare avanti certi progetti però ci vuole davvero tanta pazienza con noi stessi perché non è colpa nostra cioè noi noi a volte alcuni di noi si colpevolizzano fino a flagellarsi altre volte invece alcuni di noi colpevolizzano gli altri fino a fino a distruggerne l'immagine ecco sono due meccanismi entrambi sbagliati perché è sbagliato dare la colpa agli altri e non prendersi le proprie responsabilità questa è questo è un atteggiamento tipicamente narcisista ma è anche sbagliato prendersi tutte le responsabilità farsi carico di qualunque cosa perché gli altri non sbagliano mai e siamo noi che abbiamo sbagliato e li abbiamo portati a picchiarci scusate ho fatto un esempio però giusto per capirci mi ha picchiata ma è colpa mia perché non ho buttato la spazzatura cioè sono degli estremi che bisogna saper riconoscere e anche se non si tratta di estremi dobbiamo sempre renderci conto che in una coppia in una famiglia in un ambiente di lavoro quando accade qualcosa la colpa o per meglio dire la responsabilità è di tutti i partecipanti non è di uno solo quindi non è né mia né tua è di entrambi è di tutte e due vero è che dal punto di vista esoterico io devo sentirmi responsabile al cento per cento di tutto quello che mi accade per poterne prendere il potere però io molte volte mi trovo appunto un po in difficoltà con voi in questi video perché parlo con persone che sono a diversi livelli del loro percorso evolutivo e quindi mi trovo a utilizzare linguaggi diversi in base al vostro grado evolutivo in base al tipo di percorso di crescita che avete fatto in base alle esperienze che avete avuto vorrei che il mio linguaggio non vi apparisse come si dice in italiano quando mannaggia quando non mi vengono le parole contro contrario contrapposto con no non mi viene insomma che oggi dico una cosa e domani ne dico un'altra non vorrei apparire così contraddittoria ecco non mi veniva semplicemente sappiate che il linguaggio dipende dalla persona che abbiamo di fronte quindi in questo momento io ho tutti di fronte devo dirla per tutti allora ve la dico così noi siamo responsabili al cento per cento di ciò che ci accade perché energeticamente carmicamente creiamo noi la nostra realtà ma in un contesto sociale in cui dobbiamo interagire con gli altri non serve darci la colpa e dire all'altro hai ragione tutta colpa mia quando l'altro ci ha pugnalati in un contesto sociale bisogna riconoscere che le responsabilità del gruppo o della coppia sono perfettamente condivise fra tutti i membri lo sapevano molto bene gli antichi hawaiani coloro dai quali noi abbiamo ereditato la pratica dell'oponopono che oggi va tanto di moda questa tecnica di perdono se non l'avete mai sentito l'oponopono è la ripetizione di una sorta di mantra che dice mi dispiace perdonami grazie ti amo ed è un mantra che va rivolto a quelli che ci fanno del male o a quelli a cui noi facciamo del male e noi quindi chiediamo perdono a chi ci ha fatto del male se siete interessati a questi temi ragazzi ci sono i video corsi in particolare psicologia carmica ed energetica e guarigione carmica ed energetica dove spiego tutte queste dinamiche tutti questi meccanismi utili alla crescita e all'evoluzione in questo contesto io vorrei limitarvi a farvi capire che se abbiamo passato un brutto periodo è in parte responsabilità nostra perché avremmo potuto evitare determinate cose in parte è responsabilità delle persone appunto che ci hanno accompagnati nel nostro magnifico percorso di stress o che ce lo hanno causato tra virgolette a volte questo stress e ci sentiamo stanchi ma la responsabilità è di tutti i membri così come la responsabilità è solo ed esclusivamente vostra quando decidete di prendere la vostra vita nelle mani cambiarla e cambiare tutto ad ogni modo approfondiremo in altri contesti siete stanchi qualcuno appunto qualcuno è contento di questo nuovo inizio perché le energie sono davvero nell'aria sono frizzantine si sente che qualcosa è cambiato ma la stanchezza che ci trasciniamo addosso non è ancora finita abbiamo sprecato tante energie in cose sbagliate in cose che ci sono servite appunto solo ad imparare la lezione di non farlo più e adesso andiamo avanti l'ultima carta è quella della casualità cioè del caso della coincidenza corrisponde un po alla carta delle stelle per certi aspetti perché questa questa rappresentazione egizia si trova all'interno si trova nella valle dei re che è una zona dell'antico egitto una parte di deserto dove sono stati seppelliti faraoni personaggi importanti re e regine e all'interno di una di queste tombe che ho avuto il piacere di visitare nel 2015 si vede una rappresentazione grafica come questa in cui appunto una donna sotto una cupola una cupola che rappresenta una divinità e in realtà questa divinità è il cielo stellato la volta celeste non è esattamente così la rappresentazione originale ma questa è una riproduzione un po particolare quindi ecco le stelle che guidano il nostro cammino noi siamo sotto la volta celeste e le stelle ci guidano dove ci guidano verso degli eventi che sembrano casuali ma in realtà non lo sono sono perfettamente programmati da noi stessi addirittura prima di nascere e qualcosa quindi accade qualcosa che ci mette in difficoltà forse ma non più di tanto in realtà vi devo dire una cosa quello che accade non è né positivo né negativo lo percepiremo noi positivo o negativo di certo si tratta di qualcosa che stavolta ci tocca quindi se abbiamo attraversato periodi in cui per tanto tempo abbiamo evitato una certa cosa se abbiamo evitato cose positive adesso ci arriverà il positivo se abbiamo evitato cose negative adesso ci arriverà quel qualcosa di negativo quindi dipende davvero dalla situazione dalla posizione nella quale ci troviamo o vi trovate sono curiosa di sapere di che cosa si tratta cos'è che succede e perché siete stanchi perché nel senso comunque la rinascita è qui l'energia positiva è qui e le stelle sono pronte a guidarvi verso un nuovo percorso un nuovo cammino più piacevole che durerà quanto tutta la vita assolutamente no nessuna fase dura tutta la vita noi viviamo cicli tutto è ciclico quindi fra alti e bassi sta iniziando un periodo di alti godiamocelo e ora passiamo a vedere cosa accade per il sacro maschile e per il sacro femminile considerando che non significa uomo donna ma significa appunto che ciascuno di noi indipendentemente dal sesso può canalizzare un'energia piuttosto che un'altra cosa accade al nostro sacro maschile beh il nostro sacro maschile in questo momento ha la sensazione che sta perdendo un'opportunità e questo potrebbe appunto creare diversi dubbi però nonostante la paura di perdere un'opportunità non se la sente di andare avanti in questo modo e credo addirittura che presto il maschile sceglierà di affrontare il femminile e di confrontarsi inoltre il maschile in un modo molto ma molto romantico sa nel profondo del cuore sa che l'amore è l'energia che guarisce tutto e sa che davvero quando c'è l'amore qualunque ostacolo può essere superato in questo caso il maschile sente che c'è un sentimento e sente che questo sentimento è importante addirittura alcuni alcuni hanno proprio una percezione che ciò che sta accadendo è karmico e che dipende dalle storie familiari dipende dalle storie vissute dagli antenati noi non abbiamo solo un karma personale ma abbiamo anche un karma familiare quindi ciò che è accaduto ai nostri antenati ricade su di noi in positivo o in negativo e in questo caso il sacro maschile sa che sta affrontando una situazione che in realtà dipende molto anche dal karma familiare e non solamente da quello più personale quindi ecco che gli antenati in generale hanno in qualche modo a che fare con questa storia e condizionano questa storia il passato dei propri antenati sta condizionando le azioni di oggi oggi abbiamo la possibilità di sciogliere questo karma finalmente una volta per tutte e liberare le generazioni future oppure se non abbiamo la forza se non riusciamo questo karma ce lo porteremo dietro anche nelle generazioni future appunto ma l'amore guarisce tutto lo sappiamo prima o poi il maschile si sentirà pronto per affrontare il sacro femminile ma non adesso non è questo il momento di affrontare certe conversazioni o certe situazioni dall'altro lato invece abbiamo il sacro femminile che il sacro femminile è un po più perso nei suoi pensieri perso nelle sue emozioni pensa in continuazione a questa persona sente che molte cose invece stanno per accadere rapidamente quindi mentre il maschile prende tempo e vuole prendere tempo il femminile sa che determinate cose accadranno rapidamente e non solo qua c'è pure una sveglia qui c'è proprio una sveglia credo che sia credo che il femminile abbia fretta come se avesse paura di perdere tempo come se sapesse che certi desideri o si realizzano ora oppure sarà troppo tardi no ragazzi state tranquilli non è troppo tardi e vi garantisco che tutto arriverà al momento giusto se voi decideste erroneamente di forzare la mano e spingere fare fretta al maschile non funzionerebbe non andrebbe bene invece sappiate che davvero le cose andranno più velocemente di quello che il maschile desidera senza bisogno che voi ci mettiate lo zampino rilassatevi e lasciate che le cose accadano inoltre ragazzi qualcuno della famiglia un familiare un parente uno zio una zia un cugino potrebbe essere molto utile al nostro sacro femminile per dare consigli per permetterci di confidarci di avere un punto di vista utile diverso dal solito alternativo ecco qualcuno vicino a noi che noi sentiamo un po come uno zio una zia questa è l'energia più o meno di questa persona perlomeno in questi giorni sicuramente sarà molto utile ci farà vedere delle cose in un modo più alternativo adesso prendiamo la nostra cartina angelica e vediamo cosa gli angeli infine hanno da aggiungere e ragazzi ve lo dico sempre se volete una sessione privata o un pacchetto inviate un email o andate sul sito se invece volete diventare miei studenti inviate un whatsapp e verrete ricontattati subito dunque andiamo un po a vedere che cosa ci dicono gli angeli che non vuole uscire questa carta angelica perché no la usciamo così o due d'acqua wow bella ragazzi il due d'acqua e il due di coppe corrisponde al due di coppe qui stiamo proprio parlando di emozioni belle pure forti pulite stiamo parlando di una relazione in costante evoluzione stiamo parlando di due persone che sono capaci di perdonare e andare avanti stiamo parlando di risoluzioni positive dei conflitti quindi questo conflitto qui avrà la sua risoluzione positiva non dovete avere paura di questo non temete non abbiate fretta non spingete l'universo arriverà tutto quando deve arrivare e sappiate che il sentimento c'è ed è un sentimento reciproco perché in un due di coppe non c'è solo uno che offre la sua coppa sono entrambi io la do a te tu la dai a me e quindi ragazzi oggi io vi offro la mia coppa vi voglio bene vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima